grazie e benvenuti in un nuovo video, questo è un video smr ma purtroppo non c'è tutto si non c'è tutto vabbè ragazzi è normale comunque che alcune volte non c'è tutto perché lui comunque è piccolo e non può sempre starci insomma, vabbè questo è un video smr dove vi farò l'smr con lo slime con lo slime e niente, cominciamo ah comunque raga, un'ultima cosa se vi prendete di mi seguire anche su musical.ly mi chiamo jenny.dirocco jenny.dirocco mamma mia poi vi farò vedere come si allunga tantissimo ah comunque raga, vi volevo far vedere che io ho le cuffie per sentire meglio così posso vedere se faccio il baseball ma raga vabbè comunque ha visto che lo slime è molto grande molto molto grande un po' qui e un po' ve lo faccio vedere cioè non è tutto qui raga comunque sì perché è piccolo però c'è un gran pezzo allora io direi così metterci un po' di profondo dolce e maniglia si chiama dolce e maniglia non so se si vede vabbè comunque da lontano perché sennò poi si bagna tutto lo slime mettiamo un po' qua ok e lo coloriamo anche un po' con il color magenta dell'agiotto alcuni dicono che l'agiotto non è molto bella di marca ma per me mi piace allora dopo aver fatto il mesco mesco dopo aver fatto questo meschiamo lo slime oh my god oh my god ma io lo voglio molto 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 più scuro quindi guardiamo mi è finito quasi il colore raga dai scendi ok sono sporcata no l'unghia non temo male allora raga comunque vi posso dire allora le mamme le mamme di solito dicono che che i smr cioè che i smr che gli slime fanno male alle mani ma io vi posso assicurare che non fanno male perché mia cugina si chiama Yolanda Svizz andatela a seguire ehm cioè li usa sempre non gli fa male ma non so e non capisco non capisco perché non fa video come ma vabbè comunque andate a seguire lo stesso e mettete like ai suoi video ah poi vi spiegherò tutto su Yolanda Svizz un altro video allora io direi che questo colore è molto bello infatti guardate la differenza non c'è tanta molta differenza quindi mettiamolo qua in prova mannaggia no 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 mischiamo tutto va a Grazie a tutti. Ciao ragazzi, vi saluto, ciao a tutti.